La CGL chiede con forza che l'ufficio scolastico regionale nomini un reggente il prima possibile. La presenza di un funzionario di vertice sul territorio, affermanto nella Turchatti, segretaria generale FLC CGL di Sondrio, è assolutamente necessaria per rappresentare le necessità e specificità che caratterizzano la nostra provincia. In attesa degli sviluppi dell'inchiesta giudiziaria in corso sul provveditore Fabio Molinari, dirigente dell'ufficio scolastico di Sondrio, il timore della CGL è che la comunità educante venga lasciata in balia delle difficoltà connesse a questa fase di avvio dell'anno scolastico. A pagarne le spese potrebbero essere gli operatori della scuola, ma soprattutto, scrive il sindacato in una nota, bambini, studenti e famiglie. Antonella Turchatti fa poi riferimento alla questione dell'unione dei due istituti comprensivi di Morvegno, lo Spini-Vanoni e l'IC2-Damiani. Per l'ennesima volta, afferma, il tema del miglioramento dell'offerta formativa provinciale viene affrontato da parte delle istituzioni locali in modo superficiale, affrettato e soprattutto senza il coinvolgimento di tutte le parti sociali. Riteniamo che la razionalizzazione delle risorse scolastiche del nostro territorio sia un'operazione importante e delicata e che proprio per questo vada condivisa con tutte le organizzazioni sindacali, inserita però in un più ampio ragionamento che analizzi l'offerta formativa di tutto il territorio. Pianificazione delle risorse, fondi aggiuntivi organici adeguati all'ampliamento dell'offerta formativa e del tempo scuola sono le priorità indicate dalla CGL, che tra le difficoltà vissute in provincia segnala anche la situazione del plesso di rasura, dove nonostante il numero di iscritti fosse in linea con la normativa vigente, in fase di organico provinciale l'amministrazione scolastica non ha concesso le risorse necessarie per poter costituire una seconda pluriclasse. Per tutti questi motivi, chiude la segretaria Turchatti, ribadiamo la necessità della presenza in tempi rapidi di una figura di vertice in provincia in modo da poter garantire il necessario funzionamento dell'ufficio scolastico provinciale.